Quando si parla di secondo e terzo pilastro della Previdenza, cosa si intende e in che modo questi possono aiutare a mantenere il tenore di vita lavorativo anche in pensione? Nel nostro Paese la legislazione prevede che il lavoratore ha diversi strumenti. Quello obbligatorio che conosciamo tutti, cioè l'Inps per capirci, la Previdenza obbligatoria e poi dato che con il passaggio del sistema retributivo al sistema contributivo il legislatore ha previsto diverse forme aggiuntive al primo pilastro, ovvero la Previdenza obbligatoria, perché? Perché il tasso di sostituzione, cioè la percentuale con il quale il lavoratore di stipendio, con il quale il lavoratore andrà in pensione, sarà un tasso sostitutivo più basso rispetto al sistema precedente, al sistema retributivo, per cui questi sono strumenti che aiutano a costruire una Previdenza e dunque una pensione per il lavoratore adeguata per poter mantenere il tenore di vita di quando si era all'interno del sistema lavorativo. Il secondo pilastro, cioè la Previdenza di tipo collettivo, come dicevo prima, è frutto di accordi sindacali e ha come unico obiettivo quello di raccogliere il capitale. Perché è più vantaggioso? Perché al contributo che mette il lavoratore si aggiunge il contributo del datore del lavoro, che è pari all'1% del suo stipendio ai fini del calcolo del TFR e questo consente di avere un vantaggio maggiore nel costruire questa posizione previdenziale aggiuntiva. È per questo che noi riteniamo che sia importante una informazione, una comunicazione corretta, giusta e costante nel percorso lavorativo del lavoratore, in modo da poterli consentire una decisione libera e consapevole. Grazie a tutti!